La domanda di oggi è ma col superbonus non dovevo regalare l'energia alla rete? Ciao a tutti e bentornati su andreapicinelli.net c'è una domanda che ultimamente spopola tra i proprietari di impianti fotovoltaici realizzati con il superbonus al 110% e la domanda è perché ricevo pagamenti da GSE? Mi avevano detto che l'energia che producevo in più la regalavo alla rete qualcosa non torna e questo dubbio naturalmente crea perplessità nonché la paura di perdere la detrazione fiscale se seguite il canale o se andate a scavare nel mio archivio di video troverete già la risposta ma visto che siamo a tiroferragosto e vogliamo andare in ferie tutti tranquilli vi faccio io un rapido riassunto perché non avete nulla da temere è tutto ok. Cosa sta succedendo? Nelle ultime settimane chi ha già un impianto fotovoltaico realizzato con il superbonus 110% attivo da almeno un paio di mesi sta ricevendo dal GSE degli accrediti sul conto corrente di importi a volte anche non trascurabili insomma dell'ordine dei 100-150€ ma perché i beneficiari di superbonus 110% sono inquietati da ricevere dei soldi da GSE non dovrebbero essere contenti nelle due e invece no. Come al solito per colpa di informazioni parziali o sbagliate il cliente finale si trova a dormire male la notte con incubo di trovarsi alla porta all'agenzia delle entrate che gli chiede indietro la detrazione fiscale del superbonus. Come vi dicevo prima però non c'è nulla di cui preoccuparsi è tutto regolare perché come ampiamente chiarito da varie parti agenzia delle entrate e GSE compresi gli impianti che hanno accesso alla detrazione fiscale del 110% devono sottoscrivere con il GSE la convenzione di ritiro dedicato il cosiddetto RID e questa è la FAQ del GSE che ve lo conferma. Questa convenzione RID vi permette di ricevere dal GSE la valorizzazione dell'energia che immettete in rete valorizzazione pari al valore di mercato dell'energia elettrica. Dato che il prezzo di un kilowattore elettrico è salito a dismisura negli ultimi tempi ecco ho spiegato il perché di questi sostanziosi accrediti da parte del GSE e voi direte sì ma per usufruire del superbonus 110 non dovevo regalare l'energia non autoconsumata? La risposta è no. Ecco perché ho detto che questi dubbi nascono da informazioni parziali o addirittura sbagliate. Perché dico questo? Perché nella legge c'è scritto che il proprietario che vuole usufruire del superbonus il 110% per l'impianto fotovoltaico deve cedere al GSE l'energia non autoconsumata. Ma non c'è scritto da nessuna parte che deve farlo a titolo gratuito. Dovete cedere all'energia nel senso che non potete più riutilizzare quel kilowattora che mettete in rete indifferita come succede per lo scambio sul posto. Quindi il vostro kilowattora immesso in rete non è più un kilowattora non rimane un vostro kilowattora ma viene comunque pagato dal GSE al prezzo di mercato non quello che pagate voi in bolletta ma il prezzo di acquisto dell'energia. L'idea che l'energia immessa in rete andasse persa praticamente non venisse in alcun modo valorizzata era una prima interpretazione nella quale ammetto di essere caduto anch'io però ormai è almeno un anno che è stato ampiamente chiarito che non è così. Se non siete ancora convinti potete andare a vedere il video in questa scheda nonché la FAC del GSE che vi ho fatto vedere prima che vi lascio nel link in descrizione. Insomma la vostra retrazione al 110% per il fotovoltaico da questo punto di vista è al sicuro e potete tornare sotto l'ombrellione più sereni. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se vi ho tranquillizzato o se vi ho alimentato ulteriori dubbi. Se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like, di iscrivervi al canale, guardate gli abbonamenti eccetera. Io auguro a tutti voi un buon ferragosto e vi do appuntamento al prossimo video. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per stare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile. L'ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera. Il modulo per l'iscrizione a archivi e installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici, sia in iter semplificato che in iter ordinario che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.